Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video in collaborazione con gli amici di Showcase Lab. Finalmente è giunto il momento, dobbiamo andare a mettere le teghe sopra i miei due grattacieli, quelli che io chiamo le due torri, il Daily Bugle di Spider-Man e la torre degli Avengers. Come potete vedere la tega è veramente gigante, non mi centrava neanche in inquadratura e devo dirvi che il lavoro non sarà semplicissimo perché devo andare a togliere anche la mia vecchia tega in vetro che era troppo pesante, troppo scomoda per sostituirla con questa in plexiglass e come potete vedere è perfetta e decisamente più leggera e anche, diciamocelo, molto meno pericolosa. Ragazzi ma come sempre prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice dall'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio il sito di Showcase Lab, il loro numero Whatsapp che potete utilizzare per contattarli e non dimenticare di utilizzare il mio codice sconto VisioTV10 che vi darà diritto al 10% di sconto su qualsiasi tega che volete realizzare. Avete capito bene, Showcase Lab vi permetterà di personalizzare completamente la vostra tega, quindi qualsiasi siano le vostre dimensioni, qualsiasi sia il vostro oggetto che sia una Formula 1, che sia un Lego, che sia una statua, non c'è nessun problema, Showcase Lab ve la creerà come più preferite. Quindi adesso che cosa facciamo? Allora innanzitutto ragazzi devo andare a togliere le torri da dietro, poi dobbiamo andarle ad adagiare qua sopra, io non credo che riuscirò a farvi entrare entrambe le torri sul tavolo, devo dire è proprio impossibile. Quindi molto probabilmente andrò prima a sistemare tutto quanto, dopodiché vi farò vedere il risultato finale ragazzi, perché effettivamente farvi vedere le torri qua sopra è proprio impossibile. Comunque cercherò di organizzarmi nel modo migliore che posso, ci possiamo spostare sotto dunque ed andiamo a mettere le teghe sulle mie due torri. Ragazzi eccoci qua, che ti devo dire, secondo me è uno spettacolo vero? Sono bellissime, sono elegantissime e mi piacciono davvero tantissimo, guardate che spettacolo i loghi Marvel. Di qua possiamo vedere quello Avengers e ragazzi, veramente solo senza parole, ero sicuro che sarebbe venuto un bel lavoro, ma non così tanto. Poi vi devo dire anche un'altra cosa, c'è molta luce all'interno della stanza, come potete vedere è pieno di vetri, vetrine, luci che riflettono. Ed effettivamente l'effetto secondo me via camera non risulta bello come è dal vivo, perché vedete un po' si confondono i vari vetri, quindi non si capiscono bene le profondità, non si capiscono bene le teghe. Vi assicuro però ragazzi che l'effetto è clamoroso, sono stra mega soddisfatto, veramente voto 10. Io lascio a voi i commenti, perché non so cos'altro dirvi, quindi spero vivamente che vi possano essere piaciute queste soluzioni, perché insomma se avete anche voi questi Lego, ma anche dei più piccoli, queste teghe non solo li proteggono, ma li valorizzano davvero tantissimo. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le uscite, se questo vi dovrebbero lasciare due like giganti a testa, uno per ciascuna torre. Mi raccomando fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi sono piaciute soprattutto le teghe di Showcase Lab, vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio non solo il loro numero Whatsapp e il loro sito, ma anche il codice sconto VisioDV10, molto importante. Io vi do appuntamento con i prossimi episodi, non escludo che prenderò qualche altra teghe, perché effettivamente poi insomma io che colleziono tutte queste cose di teghe ne avrei bisogno di proprio una al giorno, quindi sicuramente torneremo a parlare di Showcase Lab, che ne approfitto per ringraziarli moltissimo ancora una volta. Qui da Visio e dalle teghe Showcase Lab è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao.